Garantire il regolare funzionamento del trasporto pubblico urbano in tutta Italia, l'ha chiesto l'assessore alle infrastrutture Luca Braia durante un'audizione dinanzi alla nona commissione trasporti della Camera dei Deputati. Siamo disposti, ha dichiarato Braia, in qualità di componente della cabina di regia nazionale trasporto pubblico locale, ad evitare altri tagli ai servizi alle comunità per evitare casi di isolamento. Braia ha poi depositato con l'assessore della campagna Vetrella un documento per chiedere l'aumento del fondo per il trasporto pubblico locale fuori dal patto di stabilità e l'integrazione dei circa 5 miliardi di euro dell'attuale fondo nazionale per rinnovare il parco vetture e introdurre l'innovazione tecnologica nella gestione delle flotte. Anche in Basilicata ci sarà un confronto con le province e i comuni, ha concluso Braia, per riproporre entro il 25 ottobre un nuovo sistema di mobilità al governo.